Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Hai riuscito a fare qualcosa? Allora, a mio avviso intervenire sulle accise è sbagliato. Mi assumo la responsabilità di dirlo chiaramente. È proprio sbagliato perché un intervento sulle accise favorisce indipendentemente il ricco e il povero. E sarebbe una misura in controtendenza rispetto a quello che sta facendo la Banca Centrale Europea, che sta facendo una stretta per abbassare l'inflazione. A questo punto diventa un circolo vizioso. Se tu intervieni sulle accise, la BCE va avanti a alzare i tassi perché non frena l'inflazione. Quindi è proprio sbagliato. Un intervento sulle accise è proprio sbagliato. Quello che va fatto è quello che si fa. Cioè si interviene sui redditi bassi in misura mirata e quindi mantenendo questo cuneo fiscale. Se si riuscisse anche ad ampliarlo sarebbe una buona cosa. Se si riuscisse a eliminare le strutture, ne parlavamo prima nel coffee break, perché qui siamo a coffee break, per evitare lo scalone, per evitare che chi è poco sopra è penalizzato. Ecco, quello è quello che va fatto. Altri interventi, erga omnes, sono semplicemente sbagliati. È un cambio di linea radicale rispetto agli ultimi anni. In questo momento, vista la politica della BCE, è proprio sbagliato. Bisogna tenere conto anche di quello che fa l'Europa. Torniamo da Pier Nicola Pettino.